Musica Bella lì ragazzuoli qui Luke Van Allen e quest'oggi siamo qui come vedete su FIFA 13 ebbene si Siamo sempre su PC e giocheremo insomma a questo gioco che sembra molto carino Inizieremo una nuova carriera e boh facciamo la carriera da giocatore e creeremo anche un personaggio a quanto pare stiamo con il Milan non perché io tifo Milan per motivi di famiglia ma non sono un gran tifoso di calcio obiettivamente quindi difficoltà partita giardiente ligone fidanziale valuta euro valuta vabbè valuta e proseguiamo le sono state prese finite crea il tuo giocatore ok allora Riccardo Foglio o Sceno aspettate utilizziamo la tastiera finchè possiamo Luke cognome Van Allen ovviamente noto come Erninho no come è il figo nome telecronaca van vediamo se c'è una datemi una v madonna dov'è la v dov'è la v eccola qua van dov'è ci sarà un van qualcosa non c'è un van van horde van van horde no direi proprio di no vediamo se c'è con la a un allen almeno ma non credo vediamo alle si c'è 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 allen nome sulla divisa van allen va bene numero di maglia 8 è il mio numero preferito nazionalità lasciamo italia anche se volevi mettere una desima vabbè anno di nascita 94 vabbè lasciamo questo mese di nascita febbraio giorno 17 ragà adesso sapete un po' di cose su di me e andiamo avanti no aspetta indietro perché qua c'è da modificare l'aspetto scarica applica game face no allora colore capelli castano io sono castano scuro quindi ok stile barba oh figo dov'è il pizzetto no barba barba corta lasciamo una lasciamo una barba corta stile è lunghezza ecco allora dobbiamo fare dei capelli facciamoli medi lisci 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 no 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 dov'è la cresta sto a cercare la cresta moicano no dov'è dov'è la razione cristo che due coglioni trovare una roba lunghi e fonti no direi proprio di no vabbè lasciamo moicano vediamo un po' colore barba mettiamo così ok va bene va bene dai ok poi andiamo qua torniamo indietro io uso adesso il mouse ragà perché non ho il controller dell'xbox ho detto controller forse quindi non so neanche come si usi sinceramente quello che ho adesso è tipo uno della tipo uno della playstation ma che cavolo sto facendo vabbè colore occhi direi che possiamo farli castani dato che questo è quello che va meglio si poi vediamo un pochettino ok possiamo tornare perfetto carnagione ecco vediamo questa no è troppo scura madonna tutte così scure sono beh lasciamo questa confermiamo sopracciglia forma sopracciglia più strette no va bene così dai va bene così non stiamo a perdere tempo allora posizione vabbè attaccante ruolo com'è nel centro ah attaccante desiderio vabbè lasciamo nel centro stile di gioco torre fantasista realizzatore io direi che sono più un realizzatore possiamo dire fine no aspetta lì dietro perché qua c'è un'altra cosa allora altezza mettiamo uno e set beh adesso andiamo andiamo gli tre centimetri in più quindi uno e ottanta peso omettiamo il peso tipo corpo medio mettiamo medio piede preferito destro e boh può andare raga può andare avanti la squadra milan acquista un nuovo giocatore 17enne ne ho sono di fatti 17enne io ne ho acquisto della squadra milan attaccate fra di tutto bla 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 perfetto ragazzi addirittura la gazzetta dello sport eh minchia no boiate e il figo non vede l'ora di farsi valere per il club e il paese ok allora come la chiamiamo carriera la carriera la chiamiamo alla conquista del mondo però facciamolo più stiloso scriviamolo meglio alla conquista del mondo ecco mettiamo anche le maiuscole dove non ci vanno perché viene più figo ok ultime notizie quale statistiche bla 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 va bene ok ragazzi quindi intanto questa era una prima una prima visione complessiva del gioco ecco belle ste tracks mi piacciono moltissimo il mio calciatore beh non c'è niente di particolare qua ci sono tutti insomma i dati sto guardando per la prima volta ragazzi perché non ho mai visto questo gioco quindi così e boh io direi che posso anche salutarvi per adesso nel prossimo video vedremo la prima partita scusate un po' l'impiaciamento ma sono proprio nuovo su fifa io non sono uno che ci ha mai giocato tanto quindi un saluto da luke van allen ciao e a un prossimo video bye bye